Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di arredo urbano della piazza di Varone. L'intervento comprende la sistemazione della rete idrica, la sostituzione dell'illuminazione pubblica, il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza e il collegamento delle nuove aiuole alla rete di irrigazione. In seguito nella piazza verranno posizionati i cubetti di porfido. L'intervento interesserà poi via della sega su cui verranno posizionate delle lastre in modo che si distinguano meglio le zone carrabili. L'obiettivo dell'amministrazione è di arrivare alla conclusione dei lavori entro il prossimo settembre.